Pioggia permettendo il Canicati Calcio tornerà in campo domani poveriggio dopo il rinvi dei match contro Castellammare e Nuova Sancis affroddando al carotto a Bordonaro l'Ares Menfi. La formazione bianco-rossa di mister Giovanni Falsone non disputa un match ufficiale dallo scorso 11 gennaio, quanto affrontò e sconfisse in trasferta il 5 Torri Trapani, ma i ragazzi canicatinesi sono pronti a riprendere il cammino bloccato dalle ultime due settimane a causa del maltempo. Contro il Menfi il Canicati sarà chiamato ad una prestazione di alto livello perché il Menfi è una formazione in lotta per i play-off capace di bloccare due settimane fa la capolista Raffadali. Il team del presidente Sandro Giglia occupa attualmente la seconda posizione in classifica a meno un punto da Raffadali ma con una partita in meno rispetto alla formazione di Alfredo Mattina. Ad arbitrare la gara del Carlotta Bordonaro sarà il fischietto della sezione di Ragusa Lorenzo Armenia. Il calendario prevede le altre seguenti sfide, Gattopardo-Palma-Liberta-Seracalmuto in programma oggi alle 15 al Comunale di Palma e poi domani Salemi-Atletico-Ribera-Castelterbini-Nuva-Sanges, Raffadali-Ravanusa e Cavara-Tesera di Falco. Le gare avranno inizio alle 15. Le gare avranno inizio alle 15.